Come è la partita che deve determinare? La squadra sta ancora facendo la preparazione, anzi sono molto carichi di lavoro, quindi c'è da fare lo scarico, quindi ancora è tutto da rodare. Ma comunque solo con tre situazioni di gioco in attacco e una buona difesa si è già visto qualcosa di importante. Questa è già la base tecnica che è fondamentale. Ovviamente il riferimento con la squadra, magari avversaria non può fare testo, quindi è giusto aspettare le prossime perché giocheremo anche con squadre che fanno la categoria superiore e magari lì la misurazione sarà un pochino migliore. Secondo me le cose da sottolineare sono queste, sono il fatto che oggi hanno esordito tre nuovi ragazzi del 2000 in una categoria come la Serie C. Questo è l'obiettivo di questa società da tanti anni, la costruzione di tutto questo. Il fatto di avere, ad esempio qui Gilardoni prima, è il marchio di fabbrica di questa società. E cioè, come dire, essere con questa, fra virgolette, strafottenza sportiva, entrare per la prima volta in un campionato senior e aver messo in crisi il precedente intervistato Moroni, insomma con un'esperienza anche di Serie B. Quindi onestamente mi fa ben sperare che la strada sia quella giusta, così come Calzini, così come Palombi, Sturli, eccetera, eccetera. Quindi, questo è il primo obiettivo. Il secondo obiettivo è che i due nuovi inseriti, cioè Ramirez e Bianchi, è vero che i giornalisti certamente guardano i punti e questo è importante, però non ci dimentichiamo che Ramirez, ad esempio, oggi ha scaricato più di dieci rimbalzi e è una cosa nella pallacanestro quasi che vale quanto due punti, insomma. Quindi ci sono delle buone, un buon inizio che penso adesso possiamo considerarci al 50%. Quindi io sinceramente oggi sono molto soddisfatto. L'allenatore è stato messo a disposizione con tanta esperienza, la struttura c'è, vediamo dove possiamo arrivare.